All'indomani dello 0-3, subito a Torino dalla Fiorentina contro la Juventus, non si attenuano le polemiche dopo l'assegnazione di due calci di rigore ai bianconeri. Penalti molto dubbi che hanno scatenato l'ira del presidente Rocco Commisso, presente in tribuna allo Stadium. Nel mediato dopo partita, il patrone italo-americano ha tuonato, tra l'altro per la prima volta dall'inizio del campionato, contro l'arbitro Pasqua, ma anche per altri torti che, secondo lui, sono stati subiti dai Viola nei precedenti match con il Genoa e in Coppa Italia contro l'Inter. E in questo lunedì, al centro tecnico fiorentino di Coverciano, in occasione dell'assegnazione delle panchine d'oro agli allenatori, Commisso ha rincarato...